Salve e bentornati a Incipit. Oggi vi parlo di un libro che è uscito qualche anno fa, da cui hanno tratto anche un film, Sopravvissuto, The Martian, di Andy Ware. Narra la storia di questo equipaggio che va su Marte e per un incidente uno dell'equipaggio rimarrà su Marte, tutti lo credono morto e invece lui deve fare di tutto per sopravvivere, fa di tutto per sopravvivere e verrà messa in atto un'operazione per il recupero. Questo libro è il diario di questo Sopravvissuto su Marte, che è molto intrigante, il film a mio modesto avviso lo è meno. Mark Watney, il personaggio che rimane su Marte, è una specie di Robinson Crusoe dei giorni nostri, dove però non ci sarà un venerdì a fargli compagnia. Ma leggiamo l'Incipit. Giornale di Bordo, Sol 6. Sono spacciato di brutto. Questa è la mia ponderata valutazione, spacciato. Sono passati solo sei giorni dall'inizio di quelli che sarebbero dovuti essere i più gloriosi due mesi della mia vita e sono finito in un incubo. Non so nemmeno chi leggerà questo diario. Immagino che prima o poi qualcuno lo troverà, magari di qui a cent'anni. Per la cronaca, non sono morto a Sol 6. Così crede senza dubbio il resto dell'equipaggio e non posso obbiasimarli. Forse decreteranno una giornata di lutto nazionale in mia memoria e sulla mia pagina di Wikipedia ci sarà scritto Mark Watney è l'unico essere umano morto su Marte. E sarà anche giusto, probabilmente, perché poco ma sicuro che muoio qui. Solo non a Sol 6, come pensano tutti. Vediamo da dove comincio. Il programma Ares. Il genere umano scende su Marte per spedire per la primissima volta gente su un altro pianeta ed espandere gli orizzonti dell'umanità, bla bla bla. Quelli dell'Ares 1 hanno fatto il loro numero e sono tornati indietro da eroi. Sfilate è gloria e l'amore del mondo tutto. Stessa cosa ha fatto Ares 2 in una diversa località di Marte. Alloro rientro a casa una bella stretta di mano e una tazza di caffè caldo. Ares 3. Ecco, questa è stata la mia missione. D'accordo, non mia nel senso che mi appartenesse. C'era la comandante Lewis a guidarla. Io ero solo uno dell'equipaggio, anzi, ero il membro dell'equipaggio più basso e in grado. sarei stato al comando della missione se fossi stato il solo rimasto. Volete saperlo? Sono al comando. Chissà se questo giornale verrà recuperato prima che il resto dell'equipaggio sia morto di vecchiaia. Suppongo che siano rientrati sulla terra sani e salvi. Ragazzi, se mi state reggendo, non è stata colpa vostra. Voi avete fatto quello che dovevate. Al posto vostro avrei fatto lo stesso anch'io. Non vi piasimo e sono contento che siate sopravvissuti. Forse farei bene a spiegare come funzionano le missioni su Marte per eventuali non addetti ai lavori che leggeranno queste pagine. Entriamo in orbita intorno alla terra alla solita maniera, con una normale navicella che si carica su Hermes. Tutte le missioni Ares usano Hermes per andare e venire da Marte. È grossa davvero e costa un occhio della testa, perciò la NASA ne ha costruita una sola. Arrivati su Hermes, ci siamo preparati per il nostro viaggio, mentre altre quattro missioni senza equipaggio ci rifornivano di propellente e provviste. Sistemata ogni cosa, siamo partiti per Marte, ma non a razzo. Sono passati i tempi delle potenti accensioni di carburante chimico e inserimenti in orbite marziane. Tutto il resto del romanzo, devo dire, è un escalation, ti tiene stretto. Appunto, dicevo, il film è molto riduttivo sulla tensione che si respira in tutto il romanzo. Io ve ne consiglio la lettura. Sopravvissuto The Martian di Andy Weir. Alla prossima. Ciao, sono Stefano Mondini e questo è il mio canale YouTube. Puoi iscriverti premendo il pulsante con sopra la mia faccia, così potrai sempre essere aggiornato su tutto quello che pubblicherò. Inoltre sarei ben felice se tu commentassi e mi dessi suggerimenti. A presto!